Benvenuti a tutti ci, precisiamo questo, non è un canale serio, facciamo un video solo, per divertimento e per condividere i nostri momenti più divertenti con chiunque guardi questo video, apprezziamo un anticipo il vostro, supporto, buona visione. E ci passa sopra, che fortuna. Oh, c'è un'idea! Un muore di tutti, per essere un merda. Mazzilo. Non aspetta, aspetta. Non aspetta, aspetta. Non aspetta. Non aspetta. No, Luca. Levati. Che ci passo? Mosa come vela. Ah, vai, vieni a ruttarmi. Oh, no, 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 no. Oh, no! MARITA abbiamo fatto a svezzare sta cosa 2 oh si e mezzo siamo 2 contro 1 no no ma perchè non ho toccato ma non ho fatto il frico no 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 ah ecco io ne faccio io ahe beh no se tu vedevi la madre della nex si giuro appena la vedevi sbarravi eh poi ti partiva lì troppo un po' da sotto non ridere che io ho sofferto soltanto perché non potevo più vedere sua madre devi usare il legno perché il metallo è difficile per me ci spunto sopra il metallo oh si spuntami sopra la cappella e dopo te lo magno te lo muovo si te lo voglio lo voglio magari ma eh magari che si te lo voglio behinne 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 uff toe marcat is your ult welcome oh ok ufo ufo URG heheheh heheheh they're going to stab you from my stump super easy to be gone tu fratello vabbè che schifo nonno che schifo che schifo guarda lì davanti la striscia della night mortacci tua porco dio vabbè non mi fai tirare la stasera cagliaccio cagliaccio vabbè vabbè oh ma Alice per Ego e di Magritte la parola e tette sono più grandi eh mi sembra che è grandissimo fregniamo i tassi su a sventire del talamaster ahahahahah la devi in essere ti ha detto però è sconato i quali te ne saugola perché mi fai saugola chissà quanto vi ho dedicato a qua porccia ahahahahahahahahahahahahah ahahahahahahah ahahahahah ecco, quei ragazzi in moto, prima che lascia tra le dicevano che noi siamo Ahmed Abdal e ci prendevano per il culo e dicevano Allaha, guarda che roba molto pericolosa da noi, questo paese non vuol dire la valda, è grande, scusatemi allora, dipende, dipende da che zona sei perché c'è... è difficile spiegare significa la grande in alcune zone ma in altre lo usano in modo cattivo e loro l'hanno usato in modo cattivo a me, dipende dalle azioni fatte dopo di quello che viene detto a questa parola comunque eh, si 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 comunque... mi proviamo a prendere se no potete... vi conviene andare in quest'ora e sforgiare denuncio ma se... questa saluta la poliziii vedete, 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 andate, 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 polizia, fate il vostro lavoro grazie mille per il vostro servizio non è che salutarci però bastardi 1 6 6 7 8 9 8 9 9 10 10 cosi ? cosia qui dentro ? oh vestiti aia merda aia aia cosi ? sono utile te lo ho pazzo cosi ? mi sta closelyrando merda ma non è np non è che devi soffrire lo so, lo so, mi sto facendo male si è anche fuori inoltre no, 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 hai tutti anche lì no, 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 no dammi una mano, dammi una mano, fori io sto scappando via ma dobbiamo andare solo, c'è un colpo di merda ma c'è altri due persone dietro ah no, sono i zombie, sono i zombie, ok Luca, c'è dei due zombie di merda sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando vieni verso di me, vieni verso di me vieni, sta arrivando, siete dei zombie, vieni Luca vai, picchilo, picchilo, picchilo no, Luca, siamo un'unista, siamo un'unista sono un'unista, è una morta sono un'unista, sono un'unista Sono inconscio Continua a picchierlo in testa Continua a picchierlo in testa Attaccami Vabbè chi se lo pega Gigi sono morti Anche lui è morto però Grazie a tutti per la visione Speriamo che il video Vi sia piaciuto e che vi Abbia strappato almeno un sorriso Con questo lasciate like E iscrivetevi al canale che Arriveranno altri video Non sappiamo quando ma ci sarà